Allora al commissariato di pubblica sicurezza abbiamo ricevuto varie segnalazioni di cittadini che prelevavano i soldi dal Bancomat ma il Bancomat materialmente non erogava le banconote, mentre invece risultava la debito sul conto. Allora sono stati effettuati numerosi appostamenti e accertamenti al fine di stabilire il perché di questo fenomeno. Grazie all'aiuto anche di un cittadino modello che ci ha fatto una giusta segnalazione siamo riusciti finalmente a trovare l'apparecchiatura che viene utilizzata. Sostanzialmente viene messa una barra di alluminio in modo da impedire l'uscita delle banconote e successivamente i malfattori ritornano al Bancomat per staccare la barra di alluminio e dietro la baglia di alluminio prendere le banconote. Abbiamo tramite i filmati di questi uffici postali e di queste banche individuato due persone che sono attivamente ricercate. Volevo quindi fare un appello soprattutto alle persone anziane che vanno al Bancomat e non riescono a prelevare i soldi di chiamare immediatamente il 112, il servizio unico di emergenza, in modo che arrivino a pattuglia e accertare il motivo della mancata erogazione della banconota o delle banconote perché se la persona si allontana poi è difficile riuscire a recuperare le banconote perché vengono sicuramente prese dai malviventi.